Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignone. Traffico regolare sull'intera rete stradale, autostradale toscana e sulla FIPILI. Lo svincolo rosignano marittimo in A12 resta chiuso in entrata verso Genova e in uscita provenendo da Genova fino al 21 marzo. A Firenze, in via degli Alfani, inizieranno lunedì 26 febbraio i lavori alla rete idrica. Fino al 1 marzo sarà in vigore un divieto di transito tra via dei Servi e via dei FIPILI. Il 24 e il 25 febbraio, per lavori in via Ghibellina, deviazione delle linee C2 e C3 di autolinee Toscane. Per un guasto agli impianti di circolazione ferroviaria tra Monte Pescali e Roccastrada, i treni della linea Grosseto-Siena potrebbero subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Altre Info, sui nostri canali social.